Per Cudini un buon punto, d'altronde quando non puoi vincerle è sempre meglio non perderle. E' quell'antico adagio calza a pennello per un Foggia che col pari di Monopoli ha allungato la serie positiva ed è riuscito a rimanere a stretto contatto con le primissime. Alle porte c'è un nuovo derby con i rossoneri attesi sabato pomeriggio allo Zaccheria dalla sfida col brindisi degli ex Nicolao e Galano. L'apprezzato Terzino da queste parti viene ricordato con piacere. Qualche applauso in meno arriverà probabilmente per il trequartista Foggiano di Nascita che dalle parti dello Zaccheria non ha certamente lasciato il segno. Squadra al lavoro con Cudini che conta di recuperare i tanti calciatori fermi ai box. Contro il brindisi dovrebbero tornare convocabili Terzini, Garattoni e Rizzo, probabilmente anche Beretta mentre va verificata la condizione di Tunkara anche a Monopoli inutilizzabile. Decisivi saranno i prossimi allenamenti con il tecnico che dovrebbe finalmente poter contare presto su maggiori alternative soprattutto in prima linea dove finora le scelte sono state quasi obbligate. L'uomo Copertina intanto è proprio un attaccante. Cudini si gode ton in, un gol ed un assist oltre ad una prestazione sontuosa domenica sera al Veneziani. L'attaccante Scuola Milan è già a tre centri in sette partite. Non gli era mai capitato da quando fa il professionista e chissà se il bomber tanto ricercato alla fine il Foggia non scoprisse di averlo in casa.